Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Sabato a Fano sarà lutto cittadino per la morte di Bigiorici, il bagnino che ha perso la vita per salvare una famiglia in mare Con la pistola in mano rapina l'agenzia 5 della BCC in Viale Italia Ripulite dalle scritte dei graffiti le mura del Pincio Un cortometraggio per promuovere la città di Fano, oggi c'è stato il primo chat Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale, cari telespettatori di Fano TV Ha entrato in banca come un normalissimo cliente, a un certo punto però ha estratto una pistola e ha chiesto i soldi della cassa Dai, andiamo a fare due operazioni Sono queste le scarne parole pronunciate al titolare dell'agenzia 5 della BCC di Fano di Viale Italia Dal rapinatore solitario per farsi consegnare il poco denaro in cassa che c'era alle 9.40 di questa mattina Dopo avergli mostrato una pistola Con fare calmo e senza agitarsi il rapinatore ed il direttore sono andati così dalla cassiera dello sportello E si sono fatti consegnare il contante 3.800 euro appena che il bandito ha messo in un sacchetto di plastica Ed ha infilato in una cartellina porta documenti gialla e ha guadagnato così l'uscita Una rapina lampo durata orologio alla mano appena un minuto e 40 L'uomo è entrato dalla porta principale e l'allarme non ha suonato quindi si presuppone che l'arma fosse un giocattolo A volto scoperto, senza indugiare, si è diretto dritto all'ufficio del titolare Il quale riferisce che il rapinatore, vestito con una normale t-shirt azzurra e scarpe ginniche bianche Aveva un leggero accento meridionale ma parlava correttamente in italiano e con tono calmo Una volta fuori dalla banca il rapinatore si è diretto a piedi verso la scuola Nuti e girandosi una sola volta Probabilmente per vedere se qualcuno lo seguiva e ha fatto così perdere le sue tracce Alcuni residenti del posto parlano di un'auto che era ad attenderlo con alcune donne a bordo E che poi si sono diretti verso l'interquartieri Ma di questo aspetto gli inquirenti non danno nessuna conferma Al momento della rapina oltre ai due impiegati c'erano anche presenti due clienti della banca Che non si sono accorti di nulla se non alla fine quando il titolare ha dato l'allarme Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fano che coordinati dal capitano Alfonso Falcucci Ora stanno indagando sulla rapina supportati in loco da una volante del commissariato di Fano Al vaglio degli inquirenti in queste ore i filmati delle videocamere sia esterne che interne all'istituto di credito Che hanno immortalato l'uomo durante la rapina Il sindaco di Fano Seri ha annunciato su Facebook il lutto cittadino per sabato prossimo A giorno dei funerali di Pierluigi Ricci La città di Fano colpita dalla tragica morte del bagnino di salvamento durante un'operazione di soccorso in mare Effettuata con eccezionale altruismo ed abnegazione Ha scritto sul suo profilo Facebook Partecipa al lutto e al dolore della famiglia manifestando in modo tangibile e solenne Il cordoglio della città per questo drammatico evento di sacrificio della propria vita per salvarne altre L'amministrazione comunale interpretando il sentimento della popolazione fanese Dichiara il lutto cittadino per sabato 12 agosto Giorno nel quale si terranno i funerali per ricordare la sua figura di imprenditore locale E la sua passione per il mare e per l'attività di salvamento Praticata da ultimo con grande generosità È decretata pertanto l'esposizione delle bandiere Sia quella europea, nazionale e cittadina A mezzasta o abbrunate sulla sede municipale E la facoltà di chiusura da parte dei gestori degli esercizi commerciali E dei pubblici esercizi Tra le 10 e le ore 11 di sabato In concomitanza con la cerimonia funebre Operazione Zanzara Tigre Domani dalla mezzanotte fino alle 4 del mattino In alcune zone della città di Fano Verrà effettuata infatti la disinfestazione Allora ecco quali sono i consigli per i residenti Delle zone interessate dal trattamento Nell'ambito della lotta alla diffusione della Zanzara Tigre Il Comune di Fano ha sessorato l'ambiente Sulla base dell'ordinanza che oggi ha firmato il Sindaco La numero 31 Ha previsto una serie di interventi straordinari Di disinfestazione da Zanzara Tigre Che riguarderanno alcuni punti particolarmente sensibili Della nostra città Nella notte tra giovedì e venerdì sera A partire dalla mezzanotte Fino presumibilmente alle 4-4 e mezza della mattina Le aree interessate saranno Lungo l'asta fluviale del canale Albani E della parte finale del torrente Arzilla Le aree verdi di Bellocchi Ricomprese nell'area Piazza Bambini del Mondo Nella pineta adiacente alla chiesa di Ponte Metauro E le aree verdi di Viale 12 Settembre e di Viale Adriatico Per l'intervento verrà utilizzato un mezzo Che utilizzerà e diffonderà con un preparato A base di piretridi Quindi a basso impatto ambientale Tuttavia consigliamo ai cittadini Una serie di attenzioni e precauzioni Che è possibile leggere e consultare Sul sito istituzionale del Comune di Fano Comune.fano.pu.it Per ogni ulteriore informazione, indicazione o segnalazione Sarà possibile contattare direttamente l'assessorato L'ambiente al telefono 0721-887-438 Tornano a splendere le antiche mura del Pincio Pincio di Fano Dopo la bonifica e la ripulitura Era tempo che la terrazza più bella di Fano Attendeva un lifting approfondito Per restituire ai fanesi e ai turisti in vacanza In questi giorni a Fano Le medievali mura e gli spazi verdi E al loro sacrosanto aspetto decoroso E monumentale che debbono avere Scritte vandaliche con la vernice spray Luogo di smercio di stupefacenti Alcova di disperati senza tetto Il Pincio e la sua meravigliosa terrazza In questi ultimi tempi è stato tutto Tranne che un gioiello di famiglia Di cui far bella mostra Ora tutto invece è ritornato Al suo stato originario di decoro Abbiamo provveduto a una pulizia Delle scritte che i vandali avevano messo su queste mura Grazie al regresso arti Che è stato incaricato dal comune di Fano Abbiamo cercato di sistemare il fondo Portando della ghiaia nuova Stiamo sistemando anche gli alberi Che in alcuni casi erano molto importanti Molto grossi Quindi avevano dei rischi Proprio oggi stiamo intervenendo Stiamo preparando quindi il Pincio E lo stiamo tirando a lucido Perché possa accogliere gli eventi I turisti e i fanesi Che vorranno viverci Mancano solo le telecamere di sorveglianza Altrimenti penso che qualche giorno E poi sarà tutto come prima Allora andiamo adesso invece Visto che parliamo di promozione della città E della città di Fano Parliamo adesso del primo ciak Primo ciak per il nuovo cortometraggio Del regista Henry Secchiaroli Che dopo le commedie Si cimenta appunto In un film promozionale sulla città Fano città d'arte e di mare E questo il titolo del cortometraggio promozionale Della città di Fano Che il noto regista fanese doc Henry Secchiaroli Sta girando in questi giorni Nei luoghi simbolo della città Un desiderio che il regista aveva in mente da tempo Per dare all'amministrazione comunale Uno strumento moderno e professionale Per promuovere la città In tutti quegli avvenimenti Fiere del turismo Mostre, stand promozionali In cui Fano deciderà di essere presente E così in un anno di pausa Dalle produzioni cinematografiche Dopo i successi degli sbancati E stregati dalla Bruna Ed in vista del prossimo film Nel 2018 Fate Vobis Sempre in vernacolo fanese Secchiaroli e la sua troupe Questa mattina hanno iniziato A girare il primo ciak Nei sotterranei Della Memoteca Montanari Racconta la storia di due turisti Che si meravigliano Della nostra città E la visitano In tutti i suoi punti migliori Facendo vedere e scoprire I luoghi Che magari Non si vedono tutti i giorni Nell'immaginario Quindi Oltre ai luoghi tradizionali Quelli che fanno la nostra storia Abbiamo deciso di fare questa cosa Per la città Qualcosa di Che si possa usare Dal punto di vista promozionale Qualcosa che serva Per lanciare Anche il turismo Nella prossima stagione ormai E Azione La casa di produzione Del regista La Ego Film In collaborazione Con lo studio grafico Zaccone Guerra Ha creato anche un brand Per la città di Fano Lanciato per l'occasione Che stilisticamente Richiama Il monumento più rappresentativo Della città Ovvero La Porta Augustea Un brand che potrebbe Prestarsi A numerose applicazioni Dal merchandising Alla caratterizzazione Di siti online O ai social media Un'opportunità Che l'amministrazione Accoglie di buon grado Io spero Che l'operazione Si concluda Con esiti Molto positivi In modo tale Che avremo Un ulteriore veicolo Di promozione Per il festival Del jazz Che si è concluso Da poco A Fano E tempo Di bilanci Speciale È l'aggettivo giusto Per definire L'edizione 2017 Di Fano Jets by the Sea Speciale Per tanti motivi Uno fra tutti L'incremento Di spettatori Del 33% Rispetto al 2016 Con un incasso Lordo Di oltre 67 mila euro Valori Che assumono Ancora più significato Se raffrontati a livello nazionale Dove ben più blasonati festival Segnano notevoli flessioni di pubblico Il Fano Jazz Come ormai comunemente viene chiamato Ha visto passare da Fano Oltre 20 mila persone Appassionate di musica Che hanno vissuto a pieno Le giornate del festival E vista anche la provenienza Sia da tutta Italia Ma anche da tutta Europa Anche altre giornate a Fano Mettendo così in moto Un volano virtuoso Fatto di economia locale Legata al turismo Dati messi in nero su bianco Grazie alla nuova bigliettazione A prenotazione Per cui sono stati staccati 4.756 biglietti Che hanno segnato Spettatori provenienti Anche dalla Russia Dati a conforto Anche dell'amministrazione comunale Che per questo evento Nell'anno Ha raddoppiato Il suo contributo Credendo fortemente Nell'impulso promozionale Della manifestazione È stata un'edizione speciale Perché ci ha visti Entrare dentro Una nuova location Che speriamo sia definitiva Come la Rocca Manatestiana Speciale perché C'è stata la possibilità Di utilizzare la Rocchetta Altro gioiello Che è sconosciuta La città Che è stato riscoperto Speciale perché Abbiamo avuto la possibilità Di sperimentare Quella che era La nuova grande idea Del Jazz Village Che funzionasse un po' Da raccordo Fra la città E il luogo istituzionale Dei concerti È stata una sfida vinta Perché moltissima gente A prescindere dal fatto Che poi possa essere Interessata ai concerti Ha vissuto un momento Anzi più momenti Dalle 18.30 Fino a tardanotte In cui ci si poteva ascoltare musica Si poteva mangiare Si poteva bere L'acqua gratis Per tutti Insomma È stato un momento Felice Tra l'altro Abbiamo visto molte famiglie Abbiamo visto molti ragazzi Molti bambini Sono stati momenti Importanti Per la notte di San Lorenzo Invece il 10 di agosto I commercianti Del centro storico di Fano E le associazioni di categoria Hanno preparato Una serata A lume di candela Shopping A lume di candela È una serata Dedicata al commercio Organizzata dai commercianti Del centro storico In collaborazione con la Proloco Confcommercio E Confesercenti Quest'unità ritrovata Tra gli esercenti È un segnale positivo Per la ripresa del centro storico Questa idea favolosa È venuta A una nostra collega Luciana Taussi Che ha avuto Questa bellissima idea Appunto Di illuminare Le vie del centro Con tutte le candele Tra le iniziative Ci sarà anche L'animazione in piazza Fatta dalla Fano Città dei Bambini Come tutti i giovedì sera Questa volta a tema risparmio energetico In collaborazione con Aset E con Lega Ambiente Ci saranno laboratori per bambini Che faranno delle piccole lanterne Ci sarà lo spettacolo La Rocca Del San Costanzo Show Quindi tante iniziative collaterali Anche a cura Degli esercenti del centro Ci saranno luoghi Dove faranno musica Favole per bambini E chi più ne ha Pi ne metta Tanto divertimento Naturalmente Il clou della serata Saranno i sali Tantissimi sconti La miglior merce italiana 100% italiana A prezzi scontatissimi Nei nostri negozi di fiducia Del centro storico Quindi vi aspettiamo numerosi Per fare una serata Di shopping A lume di candela Dal centro storico A Ponte Sasso Dove dopo ferragosto Si terrà La festa del mare Dal 17 al 20 di agosto Torna la festa del mare A Ponte Sasso Ecco che cosa Possiamo trovare Si trova Soprattutto Gastronomia Gastronomia Che ci viene Di alto livello Che ci viene riconosciuta Da 38 anni 38 anni Difficilmente Abbiamo riscontrato Delle persone Che andando via dalla festa Si sono lamentati Del cattivo pasto O gusto O del cattivo mangiare E poi Si trova un ambiente Veramente particolare Perché Da alcuni anni Saranno 5-6 anni Che noi ci siamo Trasferiti Dal distributore Di Otalevi Così conosciuto A Ponte Sasso Al centro sportivo E sociale Nostro Che nel tempo In 20 anni Abbiamo creato E migliorato Creando una location Veramente particolare In pratica Oltre ai nostri concittadini Ci sono dei turisti Che si trovano A degustare Il pesce Per loro Che sono a volte Delle novità In un ambiente Veramente caratteristico In pratica Sotto le piante Nel verde In mezzo al verde Quindi Per loro Molto caratteristico Molto invitante Buona musica Come sempre Quest'anno A differenza Degli altri anni Abbiamo un'ulteriore Novità Non ci sarà Un solo palco Ma saranno Due i palchi Due spazi diversi Uno che riguarda Il classico Suono Abituale Della musica Liscia Mentre abbiamo Un altro palco Alternativo Dove Verranno Suonate Canzoni Degli anni Sessanta Barra Ottanta Nonché La presentazione Di un libro Nonché L'esposizione Di Auto E moto D'epoca Il telegiornale è finito Dopo di noi c'è Box Poi cucina con lo chef E uno speciale Grigliata in festa Montecuco Grazie per averci seguito A domani Grazie per aver guardato